Sono Riccardo López e insegno di design e storia di arte in Italia. I miei studenti sono da 14 a 18 anni. In Italia sono da 1 a 5 anni di scuola secondaria. La mia scuola è un liceo scientifico. Mi piace insegnare la teoria alternativa e praticare. I miei studenti generalmente usano il lab multimedial in scuola e anche il lab design. Usiamo molto l'opera scuola. In Italia gesto una classe 2.0, che è un progetto basato su un programma ministeriale che proviene personali a tutti gli studenti. A scuola usiamo i network social per mantenere in contatto con gli studenti dopo la scuola. Credo che le tecnologie sono effettive se sono semplici. Quindi usiamo piattaforme popolari come Facebook, Twitter e poi usiamo altre risorse online come Prezi. Nel lab design usiamo AutoCAD e SketchUp. Per il mondo virtuale usiamo Edmondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.